Così come decideremo ora rispetto al rientro, lui aveva detto che voleva essere sette litori ma ci lasciava la scelta di poterlo riportare a casa. Se volevamo riprendere, sinceramente se parliamo un momento, da genitori ci piacerebbe tanto, è così. Si dice, scontate, scontate, ma non si dice, ora ne facciamo un momento, perché io vorrei tanto avere una comba su cui piace, chi è gentile può capire, io auguro che non si debba mai trovare a fare questa decisione, è una decisione del Polo Rosario, però posso farlo, forse per parlare il genitore rispetto all'impegno, in realtà partito, allora io vedrei che lo faccio.